Oggi potrebbe essere il giorno del via libera del decreto rilancio di 55 miliardi ma nessuno prova a scommetterci. A dividere ancora la regolamentazione di circa 500.000 migranti che lavorano nei campi oltre a colfe e badanti si lavora ad un'intesa. La sanatoria sarà rigettata se il datore di lavoro è stato condannato per reati come favoreggiamento all'immigrazione, caporalato e sfruttamento della prostituzione. Se non ci sarà accordo decido io, minaccio il Presidente del Consiglio Conte mentre legge gli ultimi drammatici dati sulla produzione industriale e il Governo prova a rispondere. Dovrebbe essere cancellata la rata di giugno dell'IRAP per tutte le imprese fino a 250 milioni e niente IMU per alberghi e stabilimenti balneari. Inoltre ci sarà il contributo a fondo perduto per le piccole e medie imprese, un miliardo per il reddito d'emergenza, nove settimane per la cassa integrazione, 1.200 euro per il bonus babysitter. Confermato il bonus vacanze di 500 euro per le famiglie fino a 50.000 euro di reddito ISEE. Capitolo scuola, anche qui non mancano i contrasti, ma il Ministro dell'Istruzione Azzolina annuncia l'intesa raggiunta di un miliardo e mezzo per ripartire l'assunzione attraverso concorsi di 16.000 precari, ma fanno sentire la loro voce anche i sindaci che scrivono a Conte ci ascolti o a rischio i servizi essenziali, a cominciare dalla raccolta dei rifiuti.